Come sappiamo dal 6 all'8 maggio si è svolta online una conferenza organizzata dal Pontificio Consiglio della Cultura dal titolo Exploring the Mind, Body and Soul, How Innovation and Novel Delivery System Improve Human Health In questa conferenza hanno partecipato persone che certamente presentano una visione del mondo in forte contrasto se non anche opposta con quella cattolica come Deepak Chopra o Chelsea Clinton fra gli altri Il giornalista Andrea Cionci sul Libero Quotidiano afferma che se cliccando sui contenuti si prova a cercare la parola Gesù, Cristo e Maria su 26.000 battute di testo compaiono zero risultati questo dice Andrea Cionci Ora, io sono fra quelli che ritengono giusto che la Chiesa si misuri con tutti in fondo lo ha sempre fatto ma dovrebbe fare questo da una posizione fortemente identitaria cioè annunciando e insegnando perché i Deepak Chopra o le Chelsea Clinton dovrebbero considerare importante la posizione della Chiesa Cattolica sui temi etici cioè la Chiesa Cattolica dovrebbe insegnare a queste persone e non mettersi sempre lì per imparare qualcosa come se a noi mancasse la capacità di conoscenza su certi temi importanti che riguardano la nostra vita Insomma, l'annuncio cattolico non può essere una voce tra le altre non è un'opinione perché se fosse questo allora non sarebbe sbagliato andarsi a scegliere le idee che ci sono più comode o anche più affascinanti e tralasciare quelle che implicano dei sacrifici un'antropologia meno comoda ma vincolante perché è basata su una visione soprannaturale come quella cattolica se quella cattolica è un'opinione fra le altre e non la verità con la V maiuscola allora sentiamoci liberi di farci le nostre spiritualità personali che ci fanno sentire bene visto che l'istituzione che deve custodire quella verità sembra non farlo con abbastanza decisione Ora, io non ho seguito la conferenza, ho visto i temi e gli intervenuti certamente sono stati toccati temi importanti ma è stato affermato il punto di vista cattolico con abbastanza forza tale da renderlo evidente Recentemente ho avuto anch'io problemi legati alla salute e mi veniva da riflettere su come l'assistenza spirituale che tradizionalmente il cattolicesimo assicurava a chi soffre in mind, body and soul era come annacquata L'immagine di questo era quella di un sacerdote che come cappellano di un ospedale era passato in un pronto soccorso in cui io ero ricoverato Non ha parlato con nessuno e nessuno lo ha cercato Io stavo infatti per chiamarlo ma purtroppo mentre io cercavo magari di stabilire un certo contatto e di chiedergli soltanto di pregare per me lui se n'era andato già via Grazie a tutti